a voi all'alghetti g express crisi politica mario bruno pessimista a spagna e catalunia tensione centra madrid e balzaruna o marmagliona guagna all'alghè a scarapicara pelta in casa la mercedes basket l'amatore rebi guagna bergamo football i risultati della salgarezza sigla convenienza extra nei supermercati delta cop dal 27 al 30 ottobre caffè lavazza confezione 2 per 250 grammi 3 euro e 99 birra e knusa da 66 centilitri a 79 centesimi delta cop il tuo supermercato sotto casa buongiorno ben trovati all'alghetti g express l'appuntamento quotidiano alla formazione del gero channel un gran saluta osamisti catalazzi al momento noi sono assolutamente las condizioni di retira las dimissioni manda sprao asci a scrivita facebook e del suo profilo il sindicato dell'alghè mario bruno al momento non è un arrendimento ma un commento pessimista che visti l'acordio non trovate per far entrare l'opedi a injunta entro una settimana a scaurandosi 20 dias nel quale si può arrivare a ritirare le dimissioni vaurim a irra balsarona manifesta sopra e domanare l'unità della spagna secondo i nostri organizzatori i nostri partecipanti sono un milione e cento mila secondo la polizia catalana trecenti mila avui la procura spagnola può arrivare a incriminare carla e puigdemont per ribellare e arrastare il presidente della catalunia pugariva da manà asil al belgio intanto dissata il governo spagnolo ha formalizzato la rimozione del presidente della catalunia del governo e del parlamento la convocazione per le elezioni sulla vintura dei narali gli anni mesi sono stati licenziamenti a mesi di cento e cinquanta funzionari catalans la cui ha assumito le competenze del puigdemont e ha delegato il vice presidente Sorraia Sainz di Santa Maria l'uva sassarese Omar Magliona sapeva la foto che Valieu è di Angerino Meloni guagna l'aile a Scara Piccara a raguglia della sua Norma M20 FC nera del 56 edizio sa con se lo trentì e sa ribati Diego De Gasperi a Marosella FA30 tel se lo saldo Giuseppe Vacca a Marosella PA2000 per le automobili storiche a Ubelti la gara la garezza Carmen Usai 87 anni a guagnati Stefano Peroni a Marosella PA9 a Vanti De Piero Lottini a Marosella PA990 e Brando Monti a Maraposch Carrera RS campionati nazionali della serie A2 dei basket femminile per il Tancasa la Mercedes contro la Palermo a B dei Rebili amatori a guagnati per il 22 a 70 a Bergamo conquistando al Tosicchi Punzian classifica ora vi vuole regia e lì tu ne mandi retta da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche lo facciamo bene e puoi portarla tranquillamente da noi per barche fino a 6 metri rimessaggio l'aperto a 400 euro l'anno al coperto 750 euro l'anno Boat Caravan Clinic zona industriale San Marco Alghero via dell'economia futbol in prima categoria l'Umero ha guagnato 0 a 2 in casa del Frassati in segona guagnano a fuori d'in casa l'Audax 0 a 3 e 3 lighe 0 a 2 a Caniga mentre perdono in casa la 1945 l'Alghe 1 a 4 contro la Florinas l'Umero Maristela contro l'Umpaggi la partita è stata sospesa proprio a 0 per un infortunio dell'arbitro le votazioni della serie c defu la 5 femminile l'Alghe ha guagnato 2 a 0 contro il monastir grazie a sgolze dell'Aula Barroco e Sonia Abruzzo curiosità a voi unambul de paraulas una botta da sbotonare damunti di una botta ha attaccato un botto ama dos botons ha rinzi di un botto per qualsiasi di narrazione informazioni o pregunte possiamo contattare la pagina di Facebook di Alguero Channel ora le previsioni del tempo per la mano a noi vediamo a a